Il poeta è un fingitore, finge così completamente che arriva a fingere che dolore, il dolore che davvero sente. E quanti leggono ciò che scrive, nel dolore letto, sentono proprio, non i due che egli ha provato, ma solo quello che essi non hanno. E così, sui binari, in tondo gira, illudendo la ragione, questo trenino a molla, che si chiama cuore.